... Ogni volta che abbiamo la fortuna di incontrare uno dei protagonisti della cultura e della pittura cinese contemporanea io mi sento in dovere di richiamare tutta la vostra attenzione Il nome di questo artista è Long Bu Jiang un artista ancora giovane, affascinante, di grande fantasia Inutile dirvi che viene dalla grande scuola del fumetto e la racconta con una qualità pittorica eccezionale Guardate questa avventura nel mare proprio c'è questo trasporto, c'è questa capacità ironica letteralmente affascinante, tutt'altro che comune nella mentalità e nella cultura orientale e cinese in particolare Long Bu Jiang, uno di quei nomi che sentiremo con continuità uno di quei nomi che è già diventato e sta diventando un protagonista del mercato internazionale e voi sapete perfettamente cosa significa dal punto di vista della quantificazione del prezzo inserirsi in maniera definitiva su un mercato internazionale è fondamentale Io ho un quadro di quest'artista quello che state vedendo Perderlo sarebbe un delitto Ve lo ripeto, sono colpi di fortuna Grazie 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 Grazie